Era l'aprile 2009 quando il servo di Dio Matteo Farina conclude la sua parabola terrena lasciando dietro di sé la fama di autentico testimone di fede. Aveva vissuto gli anni della sua malattia, il tumore cerebrale che lo aveva aggredito appena a tredicenne con fede granivica e continuando ad avere lo sguardo rivolto al bene altrui. La morte non ha spento la sua testimonianza ma in un certo senso l'ha fatto risuonare sempre di più, sempre di più perché non solo coloro che l'hanno conosciuto, la chiesa che ha incominciato questo passo verso il riconoscimento della sua santità e che ha trovato in altre persone che sono venuti in contatto con questa storia, con le parole che lui ha detto, i gesti che ha fatto, hanno trovato forza, hanno trovato bellezza per riscoprire il suo volto. Ha fatto sì che la vita comune dei giovani fosse arricchita da questa presenza della fede e dell'amore, la fede in Dio e l'amore. Quel passo che adesso lo conosce tutta l'Italia, vorrei diventare un virus per infettare il mondo dell'amore di Dio. Il 24 aprile del 2017 si è chiusa la fase diocesana del processo per la causa di beatificazione e canonizzazione di Matteo Farina, con la consegna dell'indagine che ora è al giudizio della sede apostolica. Il processo di beatificazione e canonizzazione di Matteo procede piuttosto spedito. Attualmente tutto il materiale che è stato raccolto nella fase diocesana è al vaglio della congregazione dei Santi e si attende che appunto lo studio della posizio che è stata prodotta dalla postulatrice, la dottoressa Consolini, possa portare al decreto sulla erocità delle virtù del servo di Dio da parte del Santo Padre.